La tua pomera a posto di arte dice prendo il peccanico e tirare e semplicemente portare l'ingresso e si alzo, dasci e poi prendo la tua parte dice prendo il peccanico e il peccanico e il peccanico e il peccanico e il peccanico che la torta dice prendo il peccanico e 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 poi dopo no ho vai toglierlo e poi dopo e poi e poi Non è, non è idea di andare da male, tirare, 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 tirare fuori, tirare fuori, una volta fermato è difficile girare, mentre cadendo continuate a tirare un po', deve stare sempre vicino, vicino, vicino. Grazie a tutti, grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. Grazie.